L'intervento da noi presentato riguarda un ripristino di due edifici storici per complessivi 32 alloggi presenti in Modena. In particolare questo tipo di intervento rappresenta i vincoli di soprintendenza e strutturali che hanno determinato poi le scelte progettuali in vista di quella che può essere poi la successiva gestione e utilizzo di questo bene appunto per l'assegnazione in edilità residenziale pubblica. In particolare questo intervento ha comportato le scelte progettuali legate a un isolamento termico non fatto classicamente con il cappotto sull'esterno dell'edificio ma all'interno dell'edificio così come la parte di impianti è stata pesantemente vincolata dalle scelte della soprintendenza cioè di non andare a elevare lo spessore dei solai. In particolare si sono realizzate due centrali termiche con la distribuzione di tutti gli impianti a parete e non a pavimento come succede classicamente. L'intervento è un intervento appunto di 32 alloggi il cui costo è finanziato totalmente da fondi pubblici per un importo complessivo di 2.650.000 euro. Attualmente l'intervento è in corso e la conclusione dei lavori è prevista per fine anno 2017 con la consegna degli alloggi nella primavera del 2018.